Al consultorio di Campobasso si è svolto un incontro per fare il punto sui vaccini, sui bambini nei primi mesi di vita con il pubblico speciale rappresentato dalle future mamme. Un momento importante per mettere in luce i vantaggi e i benefici della vaccinazione per tutte le fasce di età, spiega il dottor Angelo Salzo del Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM. Abbiamo visto le vaccinazioni che sono fortemente raccomandate prima della gravidanza, durante e dopo la stessa, invitando le partorienti e i familiari a presentarsi presso i centri vaccinali del Dipartimento di Prevenzione ASREM per avviare o completare le vaccinazioni. Un incontro che mira a formare e a informare, visto che si stanno ripresentando una serie di malattie infettive come il morbillo e la pertosse. Mai come adesso è importante tenere alta l'attenzione, informare e invitare le persone, giungendo nei vari momenti e punti di colloquio o contatto, per portare a conoscenza le informazioni sulla tematica delle vaccinazioni. Prevenzione primaria delle malattie infettive attraverso la pratica delle vaccinazioni che sono uno dei pilastri di sanità pubblica, uno degli interventi più importanti che hanno determinato tante vite salvate.